Musica Vogliamo subito passare alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e poi delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo iniziare subito con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara che ha come titolo di apertura A14 verso la riduzione dei pedaggi. La richiesta del ministro De Micheli al gestore. Troppe code in autostrada, le tariffe vanno ridotte. Il 7 gennaio un nuovo sopralluogo sul viadotto del Cerrano, anche ieri tir in fila sulla strada statale 16. Nel taglio alto, fatti e personaggi del 2019 in Abruzzo, Mattarella, simbolo dell'anno. Questo è il bilancio che il quotidiano Il Centro fa di tutto l'anno 2019. Nel centro pagina, foto di copertina, il ristoratore picchiato in strada sono un miracolato. Qui vediamo la foto di Antonio Cicalini, con la sciarpa al collo, con la moglie Franca, la figlia Manuela e l'avvocato Pettinella. Andiamo a ricordare che Antonio Cicalini è rimasto in coma per oltre un mese dopo la lite al semaforo. Nell'articolo di spalla di destra, Pescara, sicurezza, raddoppiano i fondi per i vigili e telecamere. Il Comune approva il bilancio e stanzia più fondi per la sicurezza. Aumenteranno le telecamere di videosorveglianza e gli agenti in strada. Invece Montesilvano, la villetta tolta ai Rome, ospiterà bimbi immigrati. Nel taglio basso, sempre Pescara, Capotanno con certi blindati, controlli serrati nell'area di risulta. Domani gli stadio. Pescara, serie B, calcio mercato. Il Pescara cerca i gol, scocca l'ora del bomber. Dal quotidiano il centro della provincia di Pescara. Passiamo sempre al quotidiano il centro della provincia di Chieti, ma anche delle zone di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura, sequestrati 100 kg di botti illegali a Chieti, blizze dei carabinieri in centro. Arrivano gli artificieri, piazza Caribaldi resta chiusa per ore. Scatta la denuncia per una donna di 63 anni, scoperti anche 104 candelotti pericolosi. Sempre nel taglio destro, vediamo, nell'articolo di Spalla, il questore di Chieti più pattuglie reati in calo. Questo è quello che ci riporta il questore di Chieti. Scendono i furti e anche le rapine. Il questore proprio Ruggero Borzacchiello traccia il bilancio del 2019, che poi nella seconda parte di mattino 6 vediamo anche il servizio che è stato preparato per noi. A Ortona invece spiaggia sporca ripulita da due fratelli. Vasto torna l'acqua dopo cinque giorni e il sindaco Menna protesta. A Rocca San Giovanni, ieri travolta uccisa sulle strisce, vittima una donna di 58 anni e lascia anche due figli. Vogliamo adesso spostarci sempre al centro, questa volta della provincia di Teramo. Anche qui, titolo di apertura, il ministro ha 14 riturre i pedaggi dopo il caos di questi giorni e le lunghe code. Il ministro De Micheli chiede al gestore proprio di rivedere le tariffe. E inoltre il centro pagina, il comune di Giulianova, da una targa all'anziano che guarda il mare Pasquale Di Marco, riceve, vediamo qui nella foto, la targa durante il consiglio comunale di ieri a Giulianova. E nell'articolo di spalla, di destra, nelle cronache, troviamo l'economia. Buone previsioni per il 2020, questo lo ha detto la Camera di commercio di Teramo, facendo il bilancio del 2019, dove dice definito estremamente positivo per l'economia teramana il 2019, ma anche una buona previsione per il 2020. A Roseto i rapinatori fanno irruzione nella sala giochi. A Teramo, nel taglio basso, scatta maxi sequestro di pesce, una tonnellata e 300 kg di prodotti ittici non tracciabili. E sempre a Teramo scoppia la guerra per gestire il bar dell'ospedale. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo alla provincia dell'Aquila, ma anche le zone di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura, ricostruzione, 6 miliardi per finire. L'Aquila opera incompleta per il 78%, Provenzano dice altri 4-5 anni per chiudere i cantieri privati. Il responsabile dell'ufficio, detta le scadenze, si spera nel massimo impegno del governo. Nel centro pagina vediamo una foto di copertina, il monumento è diventato un'attrattiva, fontana luminosa, ghiacciata, spettacolo sotto zero. Questa è la fontana luminosa all'Aquila, ghiacciata, che è diventata proprio in questi giorni un'attrattiva per tutti i turisti, ma anche le persone del posto. Delitto di Barisciano, qui nell'articolo di spalla di destra, l'ultima cena con l'assassino. La nuova pista, D'Amico potrebbe essere andato a cena con chi lo ha ucciso, sarebbe l'ultima pista degli inquirenti che cercano di fare luce sul delitto proprio di Barisciano. Danni e offese, intimidazioni a un'azienda di Castelvecchio. E infine Celano muore a soli 47 anni, dopo un malore. E ad Avezzano, danneggiata l'auto di De Floris, ride contro l'aspirante sindaco di Fratelli d'Italia. Ci spostiamo adesso al quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo, come prima pagina, titolo di apertura, caos in A14, stop ai sequestri. Riunione al MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Abruzzo chiede una riduzione dei restringimenti e sconti sui pedaggi. Trento automobilisti dall'Avvocato vogliono risarcimenti per i blocchi prima di Natale. E poi, vediamo nel taglio basso, benvenuto 2020, festa nelle piazze. Un articolo di spalla di sinistra, cene e assunzioni. Il sindaco di Giulianova manda gli atti in procura. Costantini invia una lettera al museo, attende ancora spiegazioni. Vediamo che proprio il sindaco Costantini ha rivelato di aver inviato una lettera al presidente della piccola opera. E poi vediamo che ha mandato tutti gli atti proprio alla procura. A Teramo, pacco in cella all'interno quattro cellulari, durante il controllo di un pacco inviato dai familiari destinato a un detenuto nel carcere di Teramo, la polizia penitenziaria ha trovato quattro cellulari e droga. Dal quotidiano Il Messaggero si spostiamo al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura, il bullismo non è una ragazzata. Le istituzioni si mobilitano per il caso del quindicenne di Silvio, aggredito e finito in ospedale. Nel taglio alto, annunciata e smentita la chiusura, bar Mazzini, caos per il cambio del gestore. E poi nel centro pagina vediamo il foto di apertura e cronaca, sequestri di pesce da parte dei guardia costiera e NAS, cenone sicuro, qui riporta l'articolo. E poi nel taglio basso, droghe cellulari per il mafioso in cella, sequestrati dalla polizia penitenziaria nascosti tra i biscotti. Nell'articolo di spalla di sinistra, barriere sequestrate contro esodo iniziato tra lunghe code sull'A14. E poi qui il bilancio sull'articolo di spalla di destra, del presidente della regione Abruzzo Marsiglio, primo giro di Boi, regione difficile ed impegnativo. Questo è quanto riporta il presidente Marsiglio. Vogliamo adesso passare, terminati i quotidiani regionali, alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo iniziare subito con il Corriere della Sera. Titolo di apertura qui, sfida sul reddito e quota 100. scontro anche sulla prescrizione, Fioramonti lascia il movimento, Bettini si ha una lista del premier. Il Partito Democratico dice vanno rivisti, Di Maio, si è il reddito di cittadinanza e quota 100. Di Maio dice ma è il gelo dei 5 stelle su Conte. Vediamo anche nel centro pagina, foto di apertura. In autostrada chiuso un tratto dell'A26, l'ira della ministra ha convocata la società. La caduta dei calcinacci ieri intorno alle 18.30 nella Galleria Bertè, sull'autostrada 26 in direzione generale, all'altezza del chilometro 13, crolla in Liguria un pezzo di galleria. Vediamo anche altre notizie, questa volta ci spostiamo su Quotidiano Repubblica. Anti Salvini, cercasi nel sondaggio di fine anno, emerge un paese diviso, pro e contro il litere della Lega, l'unico a tenergli testa è Papa Francesco. Gelo di Di Maio sul premier che resta in politica stasera, discorso di Mattarella. Fioramonti, l'ex ministro dell'istruzione, via dal Movimento 5 Stelle, dice sono deluso, troppi attacchi. E questo si parla anche nel taglio basso, nel box. Genova chiusa l'A26, crolla in Galleria Autostrada e Liguri senza pace. Vogliamo spostarci dal Quotidiano Repubblica al Quotidiano Il Messaggero, Quotidiano Romano, statali e ricambio per 150 mila. L'intervista, la ministra Dadone, bandi più veloci a gennaio ottavolo per il nuovo contratto. Giustizia, reddito e quota 100, maggioranza a pezzi, verifica di governo più difficile per il ministro Conte. Anche qui riporta la notizia che l'ex ministro della pubblica istruzione, Fioramonti, lascia il Movimento 5 Stelle per il misto. Dieci parlamentari pronti a seguirlo. A 26, il noto concessioni, crollo in Galleria, il MIT convoga Aspi, Autostrade per l'Italia e Autostrade riferisce più controlli sulla rete autostradale. Vediamo ancora nell'articolo di Spalla di destra. Le ho viste, non erano sulle strisce pedonali, corsofranci verbali. Nelle carte, i drammatichi istanti della tragedia, Genovese scrive ai genitori di Gaglia e Camilla. Qui si parla della triste tragedia di questi giorni che è accaduta a Roma, in particolare a Corsofrancia. Qui vediamo Fredkin, il nuovo proprietario del club giallorosso, sarà a lungo della capitale. Romanisti fantastici meritano lo scudetto, questo è quanto dice nell'intervista, il nuovo presidente e proprietario della Roma. Il quotidiano Il Tempo, altro quotidiano romano, l'uomo dell'anno è donna, questo quanto riporta l'articolo. Vince Giorgia Meloni. A gennaio Fratelli d'Italia non andava oltre il 4%, i sondaggi di oggi la danno al 10%. Anche la popolarità di Salvini nel 2019 è rimasta ferma al palo, soltanto lei guadagna voti. Qui vediamo infatti la foto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Negli articoli di Spalla vediamo le mancate restituzioni, guarda che strano denuncio, i furbetti, il movimento si salva. Questo è quanto riporta nell'articolo Il Quotidiano Il Tempo. Andiamo a spostarci e leggere la prima pagina di un altro quotidiano, questa volta è la stampa quotidiano di Torino. Renzi, il reddito va cancellato e intervista al leader di Italia Viva che attacca la legge simbolo dell'esecutivo giallo-verde. Al sud servono investimenti, non assistenzialismo. Il Senato, in Senato i numeri per modificare la buona fede, il Governo prepara la riforma di quota 100, riduzione delle finestre per il pensionamento del 2020. Lastroni di cemento caduti in galleria. Chiuso il tratto ieri sera dell'A26. Toninelli, ex Ministro delle Infrastrutture, dice che l'intera rete autostrada alla rischio serve la revoca totale della concessione. Il manifesto, altro quotidiano nazionale, dice buon fine anno, il 2019, si apre con i peggiori presaggi, ma le piazze della democrazia si riempiono di giovani e improvvisamente l'estate scorsa accade qualcosa di imprevedibile, il suicidio politico di Salvini che rimette tutto in discussione. Poi nel taglio basso, botti di Capodanno e il governo italiano tace, 50 tomi che usa dalla Turchia ad Aviano. Questo è quanto riporta nel taglio basso l'inchiesta del manifesto. Il mattino quotidiano di Napoli, vediamo ci sono vari titoli, in particolare il taglio basso, giustizia, autostrade, PD e 5 Stelle ai feri corti, alto là dei democratici sulla riforma a buona fede, intervenga Conte, i grillini, no ai ricatti, via libera al mille proroghe, attenzione sulle concessioni, rilite anche sul reddito di cittadinanza. Vogliamo adesso spostarci sul fatto quotidiano, anche qui titolo di apertura, con foto di apertura, lago indaga su Tele Salvini, troppo spazio in TG e tal show, da ministro e poi da oppositore, l'istruttoria dell'autority, sulle sue 111 ore in TV, da luglio a novembre. Questo è quanto viene riportato dal quotidiano, il fatto quotidiano e poi nel taglio alto, bancarotta e Trulli ha imputato Boschi Senior, consulenze inutili, per questo la procura chiede la citazione diretta a giudizio, per lui e 13 dirigenti. In Liguria, Masone, si stacca il soffitto del tunnel, l'altro crollo, Atalantia, chiude in bellezza il distacco del materiale dalla galleria Bertè, sulla 26 nessuna vittima. Vogliamo vedere adesso il quotidiano La Verità, titolo di apertura, altro che partito, Conte vuole il colle, il premio è all'ennesima giravolta, dal avvocato del popolo è passato, convintamente a sinistra, e ormai si vede come astro della politica, a prescindere tra PD e Movimento 5 Stelle. e nel 2022 punta al Quirinale, questo è quanto riporta qui il titolo di apertura del quotidiano La Verità, un'altra autostrada di Benetton, va a pezzi, crolla soffitto in galleria, gestita da Aspi, per miracolo, nessun ferito, tratto chiuso, e per ore, dopo giorni di disagi, sulla stessa Genova, Gravellona, toce sulle concessioni, si mette male. Poi, vediamo, nel box in basso, le consulenze di Banca Etruglia, brutto regalo per la Bosch, il babbo andrà a processo per Banca Rotta. Vogliamo andare avanti con il quotidiano libero, rendiamo ufficiale l'invasione, il sud paradiso fiscale, il nero è l'attività più forente nel mezzogiorno, tanto vale abbattere le tasse, come Irlanda e Olanda, in modo da trasformare il meridione in una mecca per multinazionali, così si manterrà da solo. Questo è quanto riporta il titolo di apertura del quotidiano proprio libero. vogliamo da quotidiano libero spostarci al secolo d'Italia, quotidiano diretto da Francesco Storace. Quante bugie ancora, professor Conte, qui vediamo il fotomontaggio, via il 2019, pure Conte, troppe bugie dal premio, ormai lo conoscono tutti, persino chi sta con lui al governo è soprannominato, è chiamato Giuseppi. Nei box in basso, in primo piano, vediamo Bibiano, zero risarcimento, la denuncia del leader di Fratelli d'Italia, la Meloni, e poi la stangata giallorossa sarà di 630 euro a famiglia, questo è quanto è previsto nel 2020. Vediamo quantificare i nuovi rimborsi per gli italiani, è stato l'osservatorio nazionale della Feder Consumatori, e poi il messaggio di Mattarella all'insegna della nazione, che sarà trasmesso questa sera. L'ultimo quotidiano nazionale, prima di passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi, odio contro le fedi, il martirologgio dell'anno. Ecco gli operatori cristiani assassinati nel mondo, paura tra gli ebrei dopo l'attacco a New York, in Texas, paratoria in chiesa. Sempre nel centro pagina, politica, ministro Conte, restano quota 100 e reddito di cittadinanza, caos nel Movimento 5 Stelle, Fioramonti lascia il Movimento per spostarci in un altro partito, all'interno sempre della Camera dei Deputati. Ambiente e uguaglianza dal 2019, le battaglie per il 2020, il bilancio e la mobilitazione dei giovani per il clima e le proteste globali contro le disparità sociali hanno segnato l'anno e proseguiranno anche, dice qui l'articolo, per il 2020. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Iniziamo subito con il Corriere dello Sport, titolo di apertura, sul Corriere dello Sport, vincerò anche a Roma. Via all'acquisto con l'avviso alla Consob, Fredrick lascia, lancia l'operazione capitale, qui lo vediamo proprio nella foto di copertina, rilancio sportivo, finanziario e commerciale, ecco i tre assi della sua strategia, del magnate texano, che vuole il nuovo stadio, ha avviato anche contatti con Coni e Campidoglio e ai suoi ha confidato, credo molto, nel marchio della cittadena. Voglio lasciare il segno. Nel taglio alto, Juve, Kuluseski, botto da 44 milioni di euro, accordo fatto con l'Atalanta per lo svedese, ora in pressi dal Parma, 35 milioni in più, 9 di bonus, ok per giugno, ma Sarri, a Sarri, spera di averlo anche subito. e andiamo avanti, dal Corriere dello Sport, al Gazzetta dello Sport, qui apre proprio col titolo di apertura, foto di apertura, Kuluseski, il botto è della Juve, blitz e bianconero, 44 milioni all'Atalanta, lo svedese oggi firmerà fino al 2024, e dovrebbe finire la stagione al Parma, ma non è escluso che Sarri lo possa avere anche subito. E qui vediamo anche Ibra, sbarcherà giovedì mattina, il accordo anche con il Barcellona, oggi atteso anche il sì del difensore Tobibo. Vogliamo spostarci all'ultimo quotidiano sportivo, tutto sport, si fa un po' il bilancio del tutto il 2019, il quotidiano tutto sport, Sinisa Mialovic, uomo dell'anno, coraggio e forza, il tecnico del Bologna, in lotta contro la leucemia e nel cuore di tutti, per questo l'abbiamo scelto. E inoltre si parla del colpo dell'anno della Juventus, clamoroso accordo con l'Atalanta, quel fantasista svedese, impresso dal Parma, 35 milioni più 10 di bonus. e in questo acquisto è stata beffata la Juventus. E vogliamo con questo ultimo articolo sportivo terminare la prima parte di mattino 6 per poi fare adesso un break pubblicitario e poi successivamente passiamo alla seconda parte che andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Però prima di tutto vogliamo ascoltare le previsioni medie per quest'oggi. Ben ritrovati cari telespettatori di mattino 6 vogliamo passare adesso a iniziare subito la seconda parte della lettura dei quotidiani questa volta andiamo a leggere le pagine interne dei tre quotidiani regionali. il quotidiano il centro il messaggero e la città. Vogliamo subito iniziare con il centro della provincia di Pescara che fa un bilancio del 2019 in Abruzzo dal decennale del terremoto alle visite di Mattarella e Conte Marsiglio diventa governatore dell'Abruzzo Pescara è stata investita da un grandinato e poi il grande concerto che c'è stato di Giovanotti il bilancio purtroppo è anche stato triste gli otto morti in montagna un anno tragico sulle montagne abruzzesi e poi anche la visita del segretario di Stato degli Stati Uniti d'America al paese di Pacentro dove ritrova le sue origini e passiamo anche al bilancio degli artigiani che sono sul piede di guerra per noi dicono neanche un euro pronta la replica dell'assessore Febbo che parla di abbaio clamoroso per il titolare della delega alle attività produttive sono stati stanziati 3,3 milioni di euro treni in ritardo si alla conciliazione attiva anche in Abruzzo il servizio per risolvere le controversie con i viaggiatori postiamoci sul quotidiano sempre interno del centro questa volta della zona del comune di Pescara concerti super blindati via le feste di Capotanno stasera e domani anche il gran finale con gli stadio gli spettacoli tutti nell'aria di risulta Masci dice sarò il sindaco che pianterà 100 alberi il primo cittadino traccia anche lui il suo bilancio dei suoi primi sei mesi di mandato e promette il 2020 nel anno dell'aria di risulta del parco nord e Pescara sarà una città più bella e vivibile questo è quanto riporta il sindaco di Pescara vogliamo anche vedere dove si parla sempre Pescara sicurezza rattoppiati fondi più telecamere e agenti strada approvato il bilancio stanziati finanziamenti anche per la riqualificazione di riserva e parco di cocco questo è quanto viene riportato nell'ultimo bilancio di fine anno dal dal comune di Pescara inoltre rischi in ospedale corsi anti-aggressioni medici e infermieri imparano a difendersi lezioni per riconoscere i segnali pericolosi nei pazienti in cattedra specialisti dell'ASL ma anche della polizia l'attesa è lunga proprio eccolo qui l'argomento scatta la violenza gli operatori del pronto soccorso sono le prime vittime i casi peggiori di notte nel quartiere Rancitelli i carabinieri trovano droga nel sottotetto e portano in cella un cinquantenne dove sono finiti i soldi per il premio Flaiano questa è la domanda di Tiboni contro la regione la presidente escluso dal bilancio l'evento che darà l'ustre all'Abruzzo nel 2020 spazio al cinema americano e McCary è pronto a tornare a riguardo di questo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato per noi prego Avvocato Tiboni il bilancio della regione è stato approvato non ci sono fondi o almeno non ci sarebbero fondi per i premi internazionali Flaiano la manifestazione più importante che c'è nella nostra regione lei si è rimasta male ma io ieri ho appreso dai giornali leggendo l'elenco delle manifestazioni che verranno finanziate che il premio Flaiano era stato escluso io non conosco i criteri con cui sono state scelte le associazioni i premi e questi criteri ripeto sono evidentemente stati elaborati all'interno dell'emendamento non conosco non ho notizie dirette certo è la domanda che io pongo alla regione è perché il premio Flaiano è stato escluso dai finanziamenti della regione ringrazio il sindaco Carlo Masci perché dimostra ancora una volta lo aveva già dimostrato in passato quando ero assessore regionale un attaccamento ai premi Flaiano e soprattutto la comprensione dell'importanza di questi premi da un punto di vista non soltanto culturale ma anche turistico e poi diciamo che i premi Flaiano un po' appartengono alla storia dell'Abruzzo ringrazio anche l'assessore Febo che tramite lei mi dà notizia rassicurante cioè che ci saranno i fondi per il premio Flaiano quindi noi che stiamo già lavorando all'edizione del 2020 siamo fiduciosi non possiamo che essere fiduciosi perché tra le altre cose fra due anni ci sarà la cinquantesima edizione celebrativa quindi dei premi Flaiano e quindi come vede le esigenze cresceranno e abbiamo bisogno di tutti abbiamo bisogno anche della regione vogliamo andare avanti ci spostiamo dal comune di Pescara a quello di Monte Silvano l'immobile come dicevamo nel titolo anche di apertura lì via Mincio la casa confiscata ai Rom per i bimbi stranieri soli la villetta diventerà una nuova sede del sistema di protezione per i chiedenti asilo ospiterà 12 minorenni ridotta a 112 il numero degli immigrati da poter accogliere il sindaco di città Sant'Angelo dice attenti ai petardi inesplosi sanzioni fino a 500 euro per chi utilizza oggi e domani prodotti pirotecnici ordinanza anche a spoltore di Lorito eravamo l'unico comune senza questo è quello che riporta qui il comunicato vogliamo un attimo spostarci andando avanti al comune di Francavilla parla il ristoratore preso a pugni in strada mi sento un miracolato Antonio Cicalini 64 anni dopo un mese di coma dice non ricordo nulla della lite con il pugile la mia vita è cambiata in un istante adesso non riesco neppure a mangiare da sole ogni giorno devo prendere decine di farmaci qui vediamo la foto di Antonio Cicalini insieme con la moglie e anche San Giovanni Teatino vieta i botti capodanno senza raudio e miccette il sindaco Marinucci lo vediamo qui nella foto dobbiamo riporta tutelare gli animali la riunione delle eccellenze a Popoli nasce con un brindisi il confronto per rilanciare la città vediamo qui imprenditori giornalisti sportivi e musicisti aderiscono alla proposta lanciata da Gianni Natale e invece gli assenti hanno mandato a riguardo i loro saluti tramite video Chieti Chieti travolto uccisa sulle strisce pedonali a Rocca San Giovanni è accaduto ieri incidente in via per tre la vittima aveva 58 anni ed abitava nelle vicinanze il sindaco Berghella strada pericolosa nell'articolo di Spalla si parla sempre della carenza d'acqua anche l'opposizione solleciti la regione e a riguardo proprio sulla carenza d'acqua che c'è stata in questi giorni vogliamo vedere un servizio prego rientrata l'emergenza idrica a basto tra le polemiche che avranno uno strascico lungo i lavori per il ripristino del servizio dopo la rottura dell'acquedotto principale del Verde a Faras San Martino ha lasciato a secco i rubinetti di alcuni quartieri della città fino a domenica pomeriggio dalla Sasi giustificano i ritardi sulla riattivazione dell'erogazione dell'acqua con problemi di natura tecnica sopraggiunti durante le manovre convogliare acqua in rete e riattivare i numerosi serbatoi sul territorio non è semplice come riaprire un rubinetto di casa dicono ma per l'utente finale diventa sempre più difficile comprendere i problemi tecnici quando manca un servizio primario come l'acqua pagato anche con i recenti aumenti retroattivi in bolletta e a consumo non effettivo ma stimato fanno notare alcuni sottolineando di aver consumato molto meno di quanto fatturato dall'ente gestore le lamentere degli utenti inferociti si moltiplicano sul web mentre il sindaco di Vasto chiede un tavolo istituzionale tra regioni Abruzzo provincia di Chieti comuni e Sasi per risolvere il problema dell'eretico Labrodo è ora di porre rimedio a 70 anni di mancati investimenti dice Francesco Mella alcuni condomini si sono attrezzati privatamente con le autobotti chiedendo perché questa volta non sia stata la Sasi stessa a fornirle come avviene durante l'estate l'emergenza idrica nel Vastese ha anche uno strascico politico dal centrodestra cittadino e dal Movimento 5 Stelle chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Sasi Gianfranco Basterebbe e del suo CDA rinnovato la scorsa primavera con Maira Roberti di Lentella in quota al PD e Corrado Varrati della Lega vice sindaco di Gamberale vogliamo spostarci adesso nella provincia di Teramo il ministro dice troppe code rischio paralisi sull'A14 vertice a Roma tariffe da ridurre la De Micheli chiede alla società autostrade per l'Italia di rivedere i pedaggi e il 7 gennaio nuovo soprallocco tecnico sul viadotto Cerrano qui vediamo nella foto il ministro De Micheli e ragazzo aggredito da Coetani Cordella il sindaco di Silvi lancia allarme bullismo proprio lo stesso sindaco vuole dire che Silvi non è stata risparmiata da questo triste fenomeno e occorre affrontarlo l'assessore Beta Costantini comunica dobbiamo smetterla di dire che sono soltanto delle ragazzate e poi vediamo qui sempre nel comune di Silvi il distributore dell'acqua danneggiato ancora dai vandali e spostiamo la provincia dell'Aquila proprio l'Aquila alla ricostruzione è al 78% Provenzano che è responsabile proprio dell'USDRA dice servono altri 6 miliardi per ultimare i lavori responsabili dell'ufficio se il governo mantiene gli attuali standard tra 4-5 anni sarà tutto finito questo è quanto riportano proprio a riguardo il comunicato auto vediamo la triste vicenda nel comune di Avezzano squarciate le gomme all'auto di Floris l'esponente politico punta a fare il sindaco ride da poche ore dall'annunciato messaggio da Forza Italia a Fratelli d'Italia qui vediamo il 41enne dove sdrammatizza immagino che l'accaduto dice sia riconducibile agli atti vandalici degli ultimi tempi avvenuti nel centro della città atti intimitatori a un'azienda agricola Castelvecchio sub equo rotti vetri di auto e furgone dei titolari scritte offensive anche sui muri della sede vogliamo adesso spostarci al quotidiano il messaggero prima di passare alle notizie sportive capodanno in piazza a Pescara e Teramo questo è quanto riportano oggi gran parte dei quotidiani sempre a Pescara Corso Vittorio chiuso per due giorni dalle 6 di oggi alle 6 di giovedì niente auto da Via Genova alla Rotonda Michelangelo per la sicurezza dei concerti i 600 stalli cancellati all'area di risulta saranno compensati dalla sosta straordinaria a pagamento sulla strada Parco e inoltre vogliamo andare avanti con le notizie il patto regge in aula e il consiglio approva il bilancio questo è quanto viene riportato anche bandiera blu per il mare e più risorse al sociale nelle scelte della manovra interventi su caserma di cocco verde e canile questo è quello che è accaduto nel comune di Pescara e Maccarry e le star per il Flaviano abbiamo visto anche un servizio rientrata con le assicurazioni della regione la polemica sui finanziamenti Tiboni al lavoro per l'edizione numero 47 abbiamo visto anche il servizio riguardo proprio al Flaviano Rancitelli arresto dei carabinieri con sequestro di eroi di cocaina preso anche un pescarese tradito dall'odore della marijuana gli arresti fatti questi giorni in particolare ieri dalle forze dell'ordine e sempre spostiandoci all'Aquila Biondi lega la resa dei conti vicino alla revoca delle deleche oggi potrebbe maturare l'idea di una sospensione per i due politici Ferrella e Taranta e per l'Aquilio Fratelli d'Italia frena temendo ripercussioni nell'assetto della maggioranza in regione andiamo andando avanti spostandoci su altri temi sempre del Comune dell'Aquila Vice Sindaco e Varianti urbanistiche tra i noti principali Raffaele Daniele nel mirino anche l'opposizione vive un tormento abbiamo perso un'occasione proprio riguardo al fuoco della crisi che cova sotto le cenere al Comune dell'Aquila Scop scuola doppio vertice da Curcio ricostruzione il capo di Casitalia incontrerà gli enti locali e i vari comitati qui vediamo anche nella foto Curcio con il governatore della regione Abruzzo Marsiglio vogliamo adesso andare avanti ci spostiamo nella zona di Sulmona Casini senza i numeri non mi dimetto questo è quello che riporta il sindaco di Sulmona Dimash il principale soccorritore del governo di Salute pubblica ha deciso di staccare la spina sapevi che era un sostegno a tempo il sindaco dice stiamo raccogliendo una serie di risultati ma entro gennaio a questo punto la situazione potrebbe anche precipitare a Roccaraso truffe online per l'affitto delle case sulla neve questo è quanto ci viene comunicato dal 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 comune di Roccaraso proprio anche le raccomandazioni che fa la polizia postale che sui social ha diffuso un vero e proprio vadekegum in molti cadono proprio nella trappola della rete e poi ad Avezzano tagliate le gomme all'auto di Armando Floris candidato sindaco del comune stesso chiedi netto calo dei crimini il questore è soddisfatto Borsacchiello il questore di Chieti da quasi 10.000 casi dell'anno scorso siamo scesi a 9.000 emesse quasi 10 ordinanze al giorno per DASPO codice rosa e violenza in casa vogliamo vedere anche qui un servizio prego calo sostanziale dei reati commessi a Chieti e provincia passati da 10.503 a 9.000 con le misure di prevenzione e poi controllo del territorio che hanno portato al raggiungimento di risultati significativi sul fronte della sicurezza reale di quella percepita dai cittadini questo in sintesi il bilancio del 2019 è reso noto dal questore del capologo teatino Ruggero Borzacchiello che questa mattina ha incontrato i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa di fine anno Chieti si conferma tra l'altro tra le città più sicure nel paese resta un'attenzione particolare alle zone del vastese a rischio di infiltrazioni della malavita pugliese questo dato è stato estrapolato un po' dalle classifiche che solitamente vengono stilate a fine anno dalle maggiori testate quotidiane nazionali il discorso della sicurezza è sempre stato ai primi posti della nostra attività soprattutto per quanto riguarda la prevenzione il fatto stesso che i reati siano in netta flessione e calo rispetto all'anno scorso che ci sia stato un numero maggiore di pattuglie sul territorio della provincia sta a significare la bontà del lavoro svolto la prevenzione è ai primi posti della nostra attività perché comporta anche un'attenta riflessione su quello che succede sul territorio e quindi di conseguenza cerchiamo di adattarci a quelle che sono le situazioni che si presentano però non solo la prevenzione anche la repressione ha comportato ottimi risultati da parte degli uomini della squadra mobile sempre attenti alle problematiche in tema soprattutto di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e anche l'attività dei commissariati nelle loro zone di competenza che come sapete molto spesso sono oggetto di scorribbande chiamiamole così da parte di appartenenti alla malavita pugliese e campana diminuiscono le chiamate al 113 sì anche questo è un dato che fa riflettere perché se c'è una minore chiamata al 113 vuol dire che ci sono anche minori reati o quantomeno delle situazioni allarmanti che non sono indicate e registrate particolare attenzione avete posto soprattutto per quel che riguarda le truffe agli anziani con importanti operazioni portate a termine negli ultimi mesi sì questo è un fenomeno che definisco odioso perché viene perpetrato dai danni di anziani che purtroppo non possono difendersi e anche qui abbiamo ottenuto dei successi con l'arresto di quattro personaggi di spicco di organizzazioni malavitose campane che hanno rappresentato uno spaccato su quello che è la divisione dei compiti di dove e come colpire e quindi è un fenomeno che ci sta particolarmente a cuore e cerchiamo sempre di tenerlo ai primi posti nella nostra attività quest'anno grazie all'interessamento sia mio e grazie soprattutto alla nuova riorganizzazione che è in atto nel nostro dipartimento per quanto riguarda sia le questure che i commissariati abbiamo potuto contare sull'immissione di nuove forze perché è necessario anche un certo ricambio generazionale perché purtroppo l'età media è abbastanza alta quindi ben vengano forse fresche a dare un nuovo contributo nella lotta al crimine vogliamo andare avanti con la lettura delle notizie scuole sicure a gennaio a Lanciano ripartono i lavori il comune approvato in bilancio oltre 300 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza e spostiamoci alla provincia di Teramo dove qui la camera di commercio dice più imprese e contributi preoccupa la fusione con l'Aquila attesa per la pronuncia della consulta e ospedale bar chiuso per il cambio di gestione al bar dell'ospedale di Teramo inoltre sempre a Teramo cellulare e droga inviati per posta ai detenuti questo è quanto quello che ha scoperto la polizia penitenziaria del carcere di Teramo a 14 cause e ritardi prime diffide riunione al ministero chiesto uno sconto sui pedaggi e una riduzione dei restringimenti per diminuire i disagi 30 automobilisti dall'avvocato per i blocchi di Natale e la storia di una mamma disabile colpita da malore più volte e vogliamo spostarci adesso sempre prima di passare le pagine sportive sul quotidiano la città della provincia di Teramo primo giro di Boa difficile impegnativo il governatore Marsilio traccia il bilancio del primo anno in regione Abruzzo tra Roma Lasse Aquila Pescara e Bruxelles poi vediamo anche dove riguardo ai trasporti i sindacati tua prosegue inesorabilmente il suo declino contestate i toni trionfalistici del presidente Giuliani più precariato ed essernalizzazione questo è quanto riportano i sindacati bullismo picchiato a Santo Stefano Silvi si mobilita la notizia dell'aggressione che ha mandato un quindicenne in ospedale ha scosto la comunità silvarola infatti abbiamo visto che anche il sindaco e l'assessore Costantini hanno veramente preso le distante la vittima ancora ricoverato e i carabinieri indagano per individuare i responsabili dell'aggressione la mamma a denunciare il fatto è stata proprio lei tanti messaggi di solidarietà che le sono stati anche inviati questi giorni vogliamo spostarci al bar Mazzini caos per il cambio gestione la ASL annuncia la chiusura per il passaggio alla Teramana PAP il gestore Basilisco contesta il mancato anche preavviso della chiusura del bar basta pressioni per la fusione della Camera di Commercio il bilancio proprio di fine anno proprio della stessa Camera di Commercio con più di 3 milioni erogati in favore del tessuto produttivo vediamo e poi anche il bilancio del consigliere Quaresimale dove dal bilancio regionale risorse importanti proprio per la provincia Teramana qui vediamo nella foto Pietro Quaresimale e poi droga e cellulari per il mafioso in carcere gli oggetti illegali erano nascosti in un pacco di biscotti sequestrato dalla polizia penitenziaria Castrogno qui vediamo proprio il comandante richiuti con il personale di Castrogno proprio dove ieri hanno fatto questa scoperta e hanno sequestrato tutto questo materiale e Teramo manca il numero legale consiglio rinviato assento un consigliere di maggioranza la minoranza non entra in aula bilancio e adempimenti rinviati proprio a questa mattina qui vediamo una foto dell'aula del consiglio provinciale di Teramo vogliamo postarci su altri argomenti della zona adesso della Val Vibrata Torrano nuovo anno di rilancio per le superiori il consigliere Frangioni illustra i programmi per le scuole provinciali questo proprio a tu per tu con Luca Frangioni consigliere provinciale con dele che proprio all'edilizia scolastica allo sport alla cultura e all'agricoltura impegnato proprio da questi mesi in un lavoro complesso che sta dando buoni risultati Martinsicuro nuove telecamere sulle strade d'accesso in città il comune annuncia investimenti con i soldi appena ricavati proprio dalle contravinzioni questo per avere la città di Martinsicuro più sicura Giulianova invece ha approvato il bilancio di previsione ricostituite quattro aree dirigenziali e messe in cantiere 21 assunzioni la guardia costiera sempre a Giulianova sequestra una tonnellata di pesce perché non aveva alcuna traccibilità della sua provenienza hanno da dimenticare invece a Roseto ricchiuti tracce il bilancio dell'amministrazione dal fronte proprio dell'opposizione e a 14 iniziato tra le code il controesodo lungo l'autostrada a 14 vogliamo passare alle notizie sportive passiamo proprio al Pescara con sul quotidiano il centro il Pescara cerca il gol all'ora del bomber Moreo dell'Empule e Vito del Crotone i nomi in pole contatti con la Lazio per Palombi ma il sogno proibito rimane e sempre mancuso vogliamo vedere anche il notaresco che è regina del 2019 Lava Stese attacco stellare nella classifica dei pareggi il Pescara invece è al comando 13 davanti al Teramo vogliamo andare sulle pagine sportive del del messaggero Pescara anno in chiaro scuro i numeri del Delfino nel 2019 per ora si viaggia con profilo basso Zauri in media salvezza ma raccoglie meno dei suoi predecessori in panchina 5 club di B su Memushai in attacco piace Vido questo è quello che viene riportato dal quotidiano il messaggero Teramo Calcio Arigoni e Mungo vogliamo continuare qui l'entourage dei due giocatori fa sapere alla società di non valutare le offerte di mercato l'attaccante Cianci verso il Siena Martignaco verso il Gironea cercasi anche un nuovo bomber e postandoci sempre su pagine sportive vediamo anche il si parla del Ciccone di Fulvo Oscar da leggenda del ciclista Chietino per la prima volta in maglia gialla il pallannuotista pescarese campione mondiale sul podio Acqua e Sapone al settimo titolo grandi anche il Teramano Formigone il Beecher Nicolai questo un po' il resoconto dei dei dati sportivi che ci sono stati in questi anni nel 2019 a livello agonistico Chiedi Lanciano invece l'Aquila riscatto delle nobili decatute una volta protagoniste nelle serie superiori sono finite tra i dilettanti ma comunque hanno vinto i rispettivi campionati un segno sta a significare di ripresa vogliamo postarci alle pagine sportive del quotidiano la città della provincia di Teramo ultimo quotidiano che andiamo a leggere delle pagine sportive prima di terminare la nostra rassegna stampa Teramo e se tornassi ai due centramanti così era nato il progetto tattico in estate adesso servono i gol per risalire una punta sola non basta questo è quanto riporta il quotidiano la città palla a mano il di giuglio il globe trotter Teramano prova a falvolare il Brixen il prodotto del vivaio protagonista della stagione dei Trentini che il 18 gennaio giocheranno la super sfida contro il Siena il basket invece Roseto schiaccia le paure Caserta va a K.O. l'ultima dell'anno sorrida gli squali ma i risultati degli altri campi rovinano in parte la festa per i due punti qui vediamo la schiacciata di Nikolic contro la Juve Caserta sempre il basket in via Vittoria alla Farnese pieno di entusiasmo per la Taspi Cup Under 14 va in archivio la terza edizione della manifestazione che permette ai giovani cestisti di misurarsi con parità di altre realtà sportive questo è l'ultimo articolo che abbiamo letto di oggi della nostra rassegna stampa di Mattino 6 che noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete mostrato vi ricordiamo che domani non andrà in onda ma Mattino 6 riprenderà giovedì 2 gennaio 2020 vi ricordo anche i nostri telegiornali di V6 che ci saranno oggi alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 grazie a tutti per averci seguito e vi auguro una buona giornata per averci seguito